Ciao carissimi, il discorso di Putin di altro giorno sicuramente ha messo un grosso punto sulla situazione ucraina, quindi da qui si inizia una nuova storia, non ci sarà più come si pensava che possa essere gli accordi o una soluzione, cioè Putin ha fatto quello che intanto io e alcuni altri esperti dicevamo dall'inizio che voleva fare, ovvero annettere le regioni filorusse dell'Ucraina, lui lo voleva fare attraverso il referendum, questo referendum è stato fatto, poi ovviamente noi qua in occidente abbiamo i nostri esperti che dicono il referendum non è stato legittimo, ci sono stati i brogli, poi i russi dicono no, imbroglioni siete voi, quindi si scambiano delle accuse e qui ovviamente possiamo discutere l'infinito, così come è anche successo con il referendum di Crimea, però i fatti sono questi, cioè il referendum di Crimea è stato fatto, la Crimea fa parte della Russia e oggi anche le regioni dell'Ucraina che sono passati con la Russia ormai sono considerati dai russi il territorio della federazione russa. Quali sono gli scenari che possono essere sviluppati da questa situazione? Putin intanto continua a dare la possibilità all'Occidente e all'Ucraina di arrivare agli accordi di pace, lui dice adesso io sono a posto, ho preso quello che storicamente è nostro, quello che è la Russia, ho annesso le regioni russe che dal 2014 subivano le violenze da parte dell'esercito ucraino, i russi che vivono in quelle regioni sono d'accordo, sono contenti di essere con noi, adesso possiamo discutere. Ovviamente è una posizione, insomma, discutibile da tutti i punti di vista e l'Occidente gioca su questo fatto perché anche l'Occidente, anche la politica occidentale è discutibilissima perché comunque l'Occidente palesemente sfrutta l'Ucraina per attaccare la Russia e questo si sa, questo si capiva, Stati Uniti d'America con l'ultimo attacco che hanno fatto al Nord Stream con le esplosioni, con queste azioni di sabotaggio, ormai ci sono i tracciamenti, ci sono tutti i materiali che dicono che ci sono stati i mezzi militari attivi in quella zona proprio quando ci sono stati esplosioni, per cui si tratta sicuramente degli americani che hanno fatto questo attentato e americani ovviamente questa situazione sfruttano per alimentare la violenza, per estendere la guerra, per cui noi siamo di fronte a una situazione dove da una parte i russi hanno preso un pezzo dell'Ucraina e hanno ottenuto un risultato che volevano ottenere. Diciamo tra quelli che aveva di fronte Putin quello era il minimo, però intanto quel minimo se l'ha assicurato, se l'ha presa, anche quelli che oggi dicono che la Russia è finita, che la Russia non ce la fa, che in Russia non c'è l'esercito abbastanza forte, possiamo condividere diverse opinioni rispetto a quello che può essere la Russia e come può essere la Russia, intanto se lo sono mangiati una parte dell'Ucraina. Adesso Zelensky ha chiesto le entrate nella Nato, nell'UE, nell'Unione Europea, bisogna vedere come queste cose verranno fatte, io non credo che l'Ucraina sarà fatta entrare nella Nato così in 448, anche perché è un paese con queste problematiche, proprio a livello giuridico, non so se grandi partecipanti della Nato saranno contenti dall'ingresso dell'Ucraina, come ad esempio la Germania o la Francia o la stessa Turchia. Non so se saranno d'accordo a far entrare l'Ucraina, perché è chiaro che facendo entrare l'Ucraina nella Nato si tratta di aprire una vera e propria guerra aperta tra tutto il mondo e la Russia, quindi si tratta di aprire una guerra mondiale a tutti gli effetti, quindi quello che chiede Zelensky adesso, in poche parole, è iniziare la terza guerra mondiale. Quindi quando noi sentiamo da parte di Zelensky queste richieste, che non sono richieste, sono proprio ocio, lui non chiede, lui afferma che vuole, quindi si deve assolutamente secondare le sue richieste. Lui si comporta come sempre in maniera abbastanza imbarazzante, ma anche molto arrogante. E qua in Occidente già ci sono state tantissime, sono state fatte tantissime sacrifici, siamo di fronte alla crisi, crisi energetica, alcuni specialisti dicono che tra poco arriveremo anche alla crisi alimentare, ci sono scenari abbastanza drammatici che noi occidentali di vecchia Europa dovremo affrontare per colpa di scelerata politica di Zelensky e dei suoi amici. E adesso lui ci vuole trascinare nella terza guerra mondiale, quindi queste richieste che lui sta facendo di entrare nella Nato sono molto 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 pericolosi. Dall'altro canto c'è Putin, che comunque è inflessibile, Putin dopo otto anni di aspettative, di tentativi di trovare degli accordi di pace con Occidente, attraverso l'Occidente, con l'Ucraina, gli accordi di pace per Donbass e per altre regioni, ha deciso che non vuole più far sì che funziona la diplomazia, lui vuole accedere a queste regioni direttamente, quindi annetterle, e a questo punto queste regioni diventano federazione russa e da oggi in poi tutta la situazione anche bellica cambia, perché se prima gli ucraini lottavano per le loro regioni, per la loro terra, adesso gli ucraini sono sulla frontiera di federazione russa, per cui i russi possono utilizzare anche gli armamenti più pesanti, i russi possono utilizzare anche le armi nucleari tattici, e questo sarà giustificato perché di fatto l'esercito ucraino si troverà ad attaccare non più il proprio paese, come ha fatto per otto anni massacrando i propri cittadini, civili, filorussi o russofoni, ma si troverà ad attaccare il territorio della federazione russa, per cui Putin sicuramente sarà legittimato, soprattutto di fronte al proprio popolo, di fronte al resto del mondo, perché comunque quando noi parliamo del fatto che Putin è segregato, Putin insomma è da solo, la Russia è da solo, non è così, la nostra propaganda vuole sempre raccontarci del mondo, incentrando il mondo nell'Occidente, ma il mondo non è più solo l'Occidente, il mondo è fatto da una multitudine di paesi sviluppati, che paesi tra l'altro molto più sviluppati del nostro Occidente, ormai noi siamo, se vogliamo anche tecnologicamente un po', siamo indietro a diversi paesi, alla stessa Cina ad esempio, e qua per farvi così, per spiegarvi questa situazione, ad esempio il primo politico al quale Putin fece la chiamata raccontando, spiegando che aveva ammesso queste regioni dell'Ucraina all'interno della Russia, è stato il sovrano di Bahrain, il Hussein o Hassan II, adesso non mi ricordo come si chiama. Comunque cari amici, quando noi parliamo del mondo multipolare, è proprio questo, cioè si intende un mondo dove l'Occidente non è più al primo posto, dobbiamo capire questo, e anche i nostri politici dovranno capire questo, anche gli americani, Biden e tutta la compagnia Bella dovranno capire e accettare questa situazione, altrimenti, carissimi, questo è un punto di non ritorno, da qui veramente stiamo arrivando alla terza guerra mondiale, vera e propria, quando ci saranno utilizzate le arme tattiche, quando ci saranno utilizzate anche le bombe nucleari, e quindi ci troveremo in mezzo all'Apocalisse, moriremo tutti. Per cui io spero che l'Occidente una buona volta riguarderà la propria politica colonialista, metteranno a posto il loro rappresentante Zelensky, che svolge gli interessi delle oligarche occidentali in Ucraina, accetteranno quello che è successo e arriveranno all'iniziativa diplomatica, perché solo attraverso l'iniziativa diplomatica oggi si può uscire da questa terribile, grave situazione. Ma per farlo gli Stati Uniti d'America e la Gran Bretagna devono rifiutare ai loro appetiti geopolitici. Questa è la cosa più importante. Grazie per essere stati qui con me, vi invito a seguirmi su Facebook, Instagram, YouTube. Su YouTube mettete pollice in alto, campanellino, così vi arrivano i messaggi quando io carico i miei nuovi video. E per accedere alle informazioni un po' più approfonditi, informazioni che per motivi di censura non posso pubblicare sui canali sovracitati, io vi invito ad iscrivervi al mio canale ufficiale di Telegram. Vi mando un forte abbraccio, grazie per essere stati qui con me.